abbiamo due utensili fondamentali una per la pasta corta una per la pasta lunga la schiumarola è un mestolo forato piatto con questo gesto e con questa forma avendo questi fori l'acqua fuoriesce e quindi riusciamo a mescolare perfettamente la pasta all'interno del nostro decano i forchettoni per le paste lunghe mescolando in questo modo riusciamo a staccare ogni singolo pezzo di pasta in modo che si si cuocia perfettamente quindi fondamentalmente è inutile unire olio all'acqua in quanto col forchettone ogni spaghetto si dividerà l'uno dall'altro un'utenzione molto importante appunto con la pasta servirà ad eliminare l'acqua di cottura e raccogliere la pasta già con la cosa importantissima è che non poterlo mai essere raffreddato sotto l'acqua ma appena cotta la pasta va direttamente immersa nel sugo definitivo di cottura e va mantecato